A seguito della bocciatura da parte della regione Abruzzo al biglietto unico per il trasporto pubblico in provincia di Teramo, si è accesa la discussione politica fra il consigliere regionale Dino Pepe e il sottosegretario Umberto D'Annuntis. L'obiettivo della proposta era quello di consentire ai viaggiatori nel Terramano di spostarsi in 14 comuni per 90 minuti a 1,20 euro con tutti i mezzi pubblici. Un'opportunità che il consigliere del PD è tornato a chiedere ieri alla regione incassando un no dalla maggioranza. Un'occasione persa per la regione Abruzzo ma soprattutto un grande disservizio per i pendolari, lavoratori, studenti che quotidianamente utilizzano il trasporto pubblico locale. Avevo proposto di istituire almeno un tavolo con le parti interessate tra regione, tua, gli altri concessionari così come la provincia, il comune, le rappresentanze studentesche. Invece la regione di Marsilio e D'Annuntis che pensano solo alle poltrone e alla spartizione delle poltrone. Ieri hanno detto no a questo tavolo e a questa proposta che arriva dalle opposizioni e dal territorio. In merito alla vicenda va ricordato che la CGL da tempo insiste sull'applicazione anche a Teramo e l'Aquila del sistema in vigore per l'area metropolitana Chieti-Pescara. I rappresentanti di questo territorio del centro-destra non riescono ad incidere sull'agenda del presidente Marsilio. Il biglietto unico è una realtà da anni nell'area metropolitana di Chieti-Pescara e invece qui a Teramo non è possibile nemmeno istituire un tavolo di discussione e approfondimento. Immediata la risposta del sottosegretario alla presidenza della giunta regionale Umberto D'Annuntis che ha definito le dichiarazioni fatte dal consigliere Pepe solo una strumentalizzazione politica. È spiegato come il biglietto unico per il Teramano sia tecnicamente inattuabile e non corrisponde al vero che sia stato istituito per le province di Chieti-Pescara ma solo per l'area metropolitana. Infatti per le linee extra area metropolitana valgono le tariffe normali come in tutta la regione. In provincia di Teramo, conclude il sottosegretario, non esistono aree metropolitane e la razio del biglietto unico è quella di essere utilizzato per aree di zonizzazione e non dalle Alpi alle Piramidi.